Nuovi sviluppi nell'inchiesta dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari che ha portato al disarticolare un'organizzazione dedita agli assalti ai portavalori. Dopo il blitz di marzo con una ventina di arresti, il 19 dicembre sono state fermate altre quattro persone, le due compagne dei presunti capi banda, Giovanni Olianas e Luca Arzu, e due prestanome. Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Nuoro, unitamente alle squadre mobili delle questure di Nuoro e Cagliari. Nell'ambito del sequestro di beni immobili e immobili, tra i quali il resort o gli astrabici di Cardedu, appartamenti sulla costa gallurese per il valore di 15 milioni di euro, i militari hanno rinvenuto nelle abitazioni degli arrestati anche un'ingente quantità di denaro contante pari a 31 mila euro. Il rivenimento delle banconote è stato effettuato nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di Silvana Conti e Tania Serra, compagne di Olianas e Arzu, e di Niccolò Pasquale Bellu, commercialista che aveva fittiziamente assunto Arzu, e di Roberto Serra, imprenditore turistico e prestanome di Olianas. Nel corso delle perquisizioni, a casa di Tania Serra, all'Oiri Porto San Paolo, sono stati trovati 9 mila euro in banconote da 100 euro. Altri 23 mila euro in pezzi da 50 e 20 euro sono stati rinvenuti nell'appartamento di Serra. La Guardia di Finanza, su mandato alla magistratura, ha avviato gli accertamenti sulle banconote per valutare se i numeri di serie e corrispondono a quelli delle banconote trafugate nel corso della rapina e portavalori, delle quali sono accusati Olianas e Arzu. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche documenti che saranno oggetto di approfondite indagini.